Ben trovati. Ben trovati e in che compagnia? Allora, perché la questione è così fatta. C'è stato un contenzioso abbastanza aspro fra Massimo Orduino e il sottoscritto su chi vantasse i maggiori diritti nell'intervistare Silvia Dallabenetta, la nostra amica Ela, e alla fine ci hanno separato. Si è risolto un sostanziale pareggio. È stato un parapiglia e alla fine ci ha detto intervistatela tutte e due. Noi ci adeguiamo con grande piacere. Benvenuta da tutti e due i lati. Intanto benvenuta. Benvenuta o bentornata. Me l'avevo preparata anch'io e bruciata. Mannaggia. Allora, sì, bentornata dopo 5-6 anni forse, che manco da Genova. Ho fatto qui Traviata con la regia di Brocaus e la vedo Allegra. E poi ho continuato con le mie cose e adesso rientro a Genova dopo tanti anni e con un gran piacere. Amo questa città, questo teatro bellissimo, con un'acustica splendida, quindi doppiamente un piacere cantare in questo teatro. E anche i genovesi che a suo tempo mi avevano accolta molto bene. Avranno avuto il loro buon motivo per accoglierti bene. Si vede che hai fatto pienamente quello che si aspettavano da te, come... Spero di essere stata... E così sarà sicuramente in questa Carmen. È la tua prima Micaela? No, ho fatto una serie di Micaela all'Arena di Verona. Beh no, tre anni fa l'ho fatta a Palermo, al Teatro Massimo. E un cinque anni fa in Arena ho fatto tutte le Micaele. Erano dieci e quindi ho fatto tutte le recite. Sono stata la Micaela della stagione. E quindi... Ma Micaela ha cotti. Sì, infatti, è stato... Ma sul biglietto da vista secondo nome Micaela. E questa Micaela, però sappiamo già, perché noi abbiamo sia sbirciato un po' di prove, sia... Non vale. Un po' non vale, ma poi ho alcuni informatori tipo Serena... Eh sì, un alter ego. Le voci di corridoio. Le voci di corridoio delle Micaele in questione, perché qui sono ben due invece. E pare che sia una cosa un po' diversa. Intanto una Micaela del 1959, con vestiti splendidi. Ah, i costumi sono una cosa favolosa. L'allestimento, la regia di Livermore, con il quale ho già lavorato tempo fa, e con il quale mi sono anche sempre molto divertita, perché lui è geniale, quindi... Condivido questo aggettivo, effettivamente è un piacere, è un piacere, è un piacere lavorare con lui. Cioè, quest'aria è un po' burbera, no? All'inizio, come dice... Sì, all'inizio c'è un po' di timore, però... Invece poi avevamo fatto un'intervista dove era spiritosissima. No, no, lui rende molto piacevoli le prove. Ecco, Micaela, noi ce l'immaginiamo un po' tutti come un personaggio remissivo, soprattutto se paragonato a Carmen, però tu giustamente a microfoni spenti ci facevi notare che Livermore o non Livermore, Micaela, cos'è che fa nell'opera? Ma io non l'ho mai sentita, cioè lei è il contraltare della Carmen, in quanto è un personaggio buono che arriva e cerca di salvare Don José, di sposarlo, insomma, è tutta la parte buona. Sì, cita la mamma, diciamo che lo mette sempre. È accomandata dalla mamma come moglie. Infatti, quindi tutto perfetto. Però io non l'ho mai vista come un personaggio debole, perché comunque una ragazza che va in mezzo ai contrabbandieri di notte... Da sola. Per cercare, sì, da sola, poi per cercare l'uomo che ama, non è tanto un personaggio debole, anzi ha una grande forza, quindi io questo cerco di farlo arrivare attraverso il canto, cioè non è un canto solo legato e raffinato, ma è anche un canto aggressivo ed energico di una donna che comunque è una donna di un certo peso, di una certa energia e coraggio soprattutto. In realtà è vero, sono proprio come due lati nella stessa medaglia. In fondo tutte e due, Carmen e Micaela, amano Don José. Alla fine lei dice, lo voglio, va, si butta, lo provoca. Quel bietolone, sì, quel bietolone, maledissima. Alla fine è più forte lei. Sì, 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 comunque combatte fino all'ultimo. È vero, questa cosa mielosa. In realtà il personaggio di Micaela, faccio uno sfoggio, in Mary May non c'era. Fu introdotto per tentare di addolcire un pochino questa trama, dove Carmen di mestiere faceva proprio il mestiere più antico del mondo, non faceva la sigaraia. Anche lì è stata messa per moderare perché all'Obera Comiche ci andavano le famiglie e non volevano scandalizzarle troppo. Poi in realtà fu un insuccesso clamoroso proprio perché si scandalizzarono. Infatti, ma giustamente per moderare la situazione ha inserito Micaela. Sì, Micaela era stata un po' messa come contraltare a questa cosa. Don José era un pluriumicida, ammazzava non solo Carmen, ma anche il marito e il comandante della guarnigione, per cui era veramente una cosa drammaticissima. Sì, sì, era una cosa, scusate, stavo andando off topic, ma tanto per dare un'idea di che valore ha Micaela. C'è stata messa apposta nell'Opera, proprio come è un vero contraltare. Che ha una notevole importanza. Una curiosità, questa è una versione con i dialoghi parlati, non con i recitativi di Ghirò. Anche le altre Micaele che avevi fatto erano in questa guisa? No, in Arena no. Le parlo delle ultime, le ultime due che ho fatto. Invece nella Micaela che ho fatto a Palermo, sì, c'erano dei dialoghi, tagli diversi. Sì, che vengono sempre un po' riassunti poi i dialoghi. Ecco, allora la mia curiosità è questa. Generalmente vale, per chiunque non sia madrelingua, anche per chi fa i dialoghi parlati in italiano, ammesso che, tipo la lettura della lettera di Traviato, quando senti magari appunto un soprano straniero che canta benissimo, pronuncia benissimo, e poi cade sulla lettera. Ecco, tu e i tuoi colleghi come ve la state cavando? Col francese parlato, recitato? Io parlo per quanto mi riguarda, siccome arrivo ho fatto anche l'operetta, infatti parlavamo prima della Vedo Allegra, per me i dialoghi non sono un problema, quindi in francese o in italiano, a suo tempo feci anche Regina della Notte al Teatro Massimo di Palermo, quindi anche lì, lì peggio ancora i dialoghi in tedesco, però insomma non mi spaventano. preferisco cantare, sicuramente, anche perché mi sento più a mio agio, però... E neanche come problemi di emissione, cioè passare subito dal canto alla recitazione, che è un po' diverso, chiaramente. Sì, bisogna stare attenti a tenere sempre il suono agganciato. Perché se no i volumi poi si diventano... No, ma anche proprio per una questione di stanchezza poi vocale. Certo, a ripartire dopo aver parlato. Perché se uno preme troppo sul dialogo, rischia poi di trovarsi quando inizia a cantare. Certo, infatti non siamo in un teatro piccolo, nel senso che avendo cose... No, infatti, un teatro grande. Io ho sempre visto gli attori, mi hanno sempre impressionato, perché i cantanti hanno l'emissione. Gli attori si sentono addirittura dai soffiati che si sentono dall'ultima fila. Quindi sono proprio tecniche diversissime. Cioè, io ho fatto un corso di recitazione perché comunque serve sempre, però non è la stessa cosa poi di farlo di professione. Allora, qui è la prima volta che tu sei ospite nel nostro studio. Spero che sia la prima di una serie. Ti informiamo del fatto che qui comanda, tirannicamente, il nostro Valter Rivaldi, il regista che... Che è lì di fronte. I nostri amici non vedono, ma tu... Aite lo vedi. Ci ha fatto un segno... Egli è spaventoso già normalmente. Che ci ha fatto il segno di tagliare. Sì, ma proprio tagliare la gola. Ah, c'è proprio scritto, lo dico io. È chiudere con la freccia... Con la freccia sulla D, per giunta. E questo come recitato. È un esempio, è un testo questo, di recitazione. Non è che vediamo apparire altri cartelli se non vediamo in fretta. Cattivo, ma gentiluomo. Non vorrei che un po' alla volta arrivassero altri cartelli. Adesso viene applausi. E va bene, allora, senti, ti ringraziamo, ti salutiamo. Ti diamo il nostro in bocca al lupo. Non vediamo l'ora di riaverti qui. Un enorme in bocca al lupo. Ho portato a casa una grande soddisfazione perché poi alla fine noi cantanti viviamo di applausi. Anche d'altro. Però gli applausi... Solo gli applausi si mangia poco al supermercato. Si mangia pochino, però mangia lo spirito. Perfetto, direi che su questa considerazione ti ringraziamo ancora e ti salutiamo. Grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti.